A questo quanto puoi essere messo male Mappa più piccolina Quindi una mitragliata ci starebbe bene Andiamo quindi con Madonna, sempre partite iniziate Ecco io Ho scelto proprio la modalità Shipment ragazzi Per modo da apprendere Che? Ma se fosse un nemico vi giuro Allora la mappa è piccolissima proprio Si vede da lontano un chilometro che è piccola No 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 Sono saltato ma mi ha ucciso lo stesso Va bene dai va bene va bene va bene Allora c'è un casino C'è un casino Non si capisce nulla Non si capisce nulla veramente ragazzi Ok Noi facciamo qualche punticino ragazzi Ok vai vai Mia 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 Ok questo mi ha fatto male col pompa Va bene va bene No 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 Ok No lanciamo una granata ragazzi Se no non ci vediamo Siamo jackie Non ci possiamo troppo Non possiamo Questo si campera lì Ma che cazzo di mappa è questa Aereo spia partito Questo dovrebbe essere le mie prese Olè Perché sono cretino Perché sono cretino Dovevo star fermo Sono passato in vantaggio Olè L'ho visto L'ho visto l'ho visto Vai grado 5 perfetto Oh questo alle spalle Ma quanto sei squallido col coltello alle spalle Quanto sei squallido Mamma mia oh Mi servono rinforzi Ne avessi ucciso uno Ma no Ce n'erano quattro Ho fatto un assist Mi va bene per la missione No vado di qua che è quello là Se no mi fa Ricarica 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 8-9 Da merda Livello 5 Abbiamo ottenuto il fumogeno Lancio dei rifornimenti Perfetto Direi di aprirlo subito Ne avevo due Perché avevo dimenticato di aprire Quello della precedente parte ragazzi Quindi doppio lancio dei rifornimenti Vediamo cosa riusciamo a trovare Allora Un raro Un comune È un epico Bella Apriamo il successivo Vediamo che troviamo Quello è un epico di nuovo Ok perfetto Comune È epico Ok perfetto Dai Niente male Qua adesso direi di dedicarci tutto a shipment ragazzi Perché secondo me usciranno delle belle partite Interessanti Qua in dominio praticamente ci sarà un casino bestiale ragazzi Io mi dedico a dedicare questa parte a shipment Perché A mio avviso potrà essere una Madonna Neanche il tempo di muovermi Cioè già mi ha fatto Ma che cazzo c'è questo Oh ma che Sono tutti sniper qui Oh ma che cazzo Oh Cioè ma che succede Oh ma che sta storia Ma questo Qua ce n'è uno qua dentro Cioè rendetevi contro Quanto sei bastardo Quanto puoi essere bastardo L'abbiamo preso B anche Quanto puoi essere bastardo Ho arrivato a destra forse Perché da sinistra non vedo nulla Quanto puoi essere cretino Mamma mia ragazzi Però 5 l'ho ammazzato Ho anche una bomba Che è una Vedi Vai Dov'è la doppia Ole Colpito E andiamo di UAV Che poi qua lo chiamano Ve, ve, ve Ve, ve lo spia Dai C'è chi non lo sto per ammazzare Però a livello 7 ce l'ho arrivato Dai Partita Niente male Dai Iniziata da schifo Ma Non mi Non mi muovo E boh Ma che c'avete con ste granate qui Che c'avete Oh ma siete impazziti Mamma mia Non si capisce niente Comunque mi sto trovando benissimo Con questo mirino E quest'arma non è niente male Ragazzi Con questa configurazione qui Non è per niente male Qua ce ne sono tre E' il cecchino Che sempre esce Però ragazzi Stiamo facendo il culo A livello di punti A livello di punti Gli facciamo il culo 3x3 Che vuol dire Ne avessi colpito uno Oh E' spawnato E' lì Lì Vabbè Andiamocene Ma quanti sono Cioè siamo Sono una full team Di avversari Ma non c'è nessuno Ole Ucciso finalmente il cecchino Ragazzi Grazie soddisfazione per me Uccidere il cecchino Quanto sei bastardo Tu che ti cam Vabbè Non posso parlare Perché l'ho fatto anch'io prima Questo esce secondo voi Dove cazzo è andato Dove è andato Quello io quello cercato Vabbè 8x8 No dove sto io 8x8 Sì 8x9 adesso Ragazzi Come l'ho ucciso quello Come l'ho ucciso Dai E' una doppia Questa Dai cazzo Comunque qua proprio Con gli esplosivi E i pompa Si scialano C'era una classe Col pompa Tipo per provare Com'è Non lo so Se c'era una classe Col pompa Non sono armi Che utilizzo Ma sto cecchino Non c'è un cazzo Da fare Sta facendo E basta Colpi d'artiglieria Sulla zona Madonna santa Allo spawn Proprio di colpire Che è qua dentro Ragazzi Io a livello di punti sto finito Stiamo vincendo Per me Spariamo a cazzo Per me Me ne frega Stiamo vincendo Ma chi se ne fronte Vai ragazzi Questa era uccisione Ma questo Quanto puoi essere Messo male Vabbè ragazzi Qua me la so cercata io L'ammetto Però ragazzi Quello quanto Poteva essere messo male Dov'è Dov'è era Dov'è era Dov'è Vabbè Qua ho sbagliato Round 1 di 2 Ah quindi a 2 round Si divide Ok Perfetto Dai che col fumo Forse non mi becca Manco pocazzo Col fumo Vabbè Il fumo era sbanito Da 3 ore Quindi Non c'era Intervallo Ok Vediamo di fare Una partita più decente Adesso Qua ragazzi Condominio In questa mappina piccola Si riesce a fare Una strage No Doppia Era così doppia Però vabbè Primo sangue L'ho fatto io Ma so beccata Ragazzi Voi conquistate Che tanto Ce li buttiamo Li battiamo tutti Subito Net shot Bitch Esci da là Non è L'ho ammazzato Come l'ho ammazzato Oh 5 colpi alla testa E quindi si è bloccato la medaglia Ok Prendiamo Kaiser Anche ragazzi Tanto così Facciamo punti Ma noi interessa Far punti adesso Interessa far punti Per arrivare A livello massimo E per appunto Poi arrivare Al prestigio Qua secondo me Arriverà qualcuno Ma che cosa Volevi fare Ma sono Ragazzi Sincero Ma quanto poter Possono essere scarsi Cioè che c'ho Il setup Scarsi Proprio come avversari C'è Scarsa Cioè Si può fare anche Roll to command Così Cioè Quando ho fatto Il roll to 100 headshot Ho fatto veramente Più schifo Faccio la granata Là si è una merda Forse perché È un pochino Più vecchio stile Quindi senza Tutte quelle cose lì Il salto Il doppio salto Queste cose qui Forse mi aiuta Un pochino più lento Un altro headshot Sto facendo più headshot Qui che nella serie Roll to 100 headshot E sto dando Negativo di 2 Però vabbè Che cosa succede lì Cosa succede Ho fatto hitmarker Con la granata Qua secondo me Va giocata un po' Da camper In questa mappa Non va giocata Troppo da rusher Che Ma perché non muori Con una granata Con lo scudo Madò Però sono stato bravo Ho difeso l'obiettivo Là ce ne è uno Ma l'ha in fondo Dov'è Ah si No L'ho hitmarkerizzato Doppia ragazzi Doppia Per mim Oh Ecco la doppia Se è stata una tripla Veramente avrei Tirato qui il joystick Ma comunque ragazzi A livello di punti Non c'è partita Non c'è partita proprio Ragazzi 170 a 36 Non so se anche voi Avete trovato mai a versari così A questo interessa solamente Vincere A livello di Fare uccisioni Ecco Non gli interessa Vincere una partita Secondo me C'ha la maschera Che cos'è? Figlio di puttana Corsi tol Dov'è? Non c'è l'avvicinamento a bersaglio Perdiamo l'obiettivo Aia 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 Perdiamo l'obiettivo Perdiamo Volevi eh Dietro Davanti No cos'è una granata Ammazzato No l'altro L'altro Vabbè Vabbè Esce tutto il mondo Da lì Esce il mondo Dov'era quello? Ma se Mi ha fottuto Mi si era mimetizzato Hitmarker mi ha fatto Quindi questo qua Forse arriverà quasi No ma dai A che mira c'ho oggi? Oddio Non è andata male Però Ho fatto una mira di merda oggi Abbiamo vinto Con un rattipo Abbastanza negativo Però ragazzi Stiamo vincendo Dai Partita niente male ragazzi Dal livello 5 Arriviamo al livello 8 Abbiamo sbloccato la Molotov Ah Ricarica durante gli scatti Perfetto Mira stabile Proiettile rinforzato Beh direi che Un attimino Forse ho completato gli ordini Punteggio social Che non servano a minchia E punti esperienze Che adesso mi servivano Mi servivano prima Allora Vediamo un attimo Stazione rapida No Vediamo impugnatura Precisione 11 Mira stabile Quindi non leva un cacchio Quindi è la stessa Aspettate Allora vediamo un attimo Cosa possiamo fare Tutti i dominio Rifacciamo un altro dominio Su shipment Ragazzi Che ci sta Quest'arena comunque ragazzi È un casino Propri esplosivi a go go qua Cioè ragazzi Aspettate Qua secondo me Già viene qualcuno Già mi viene qualcuno Come lo sapevo Che c'era già il cecchino Come lo sapevo E come l'ho ammazzato Questo Ne vogliamo parlare Questo qua mi ha ammazzato Ne vogliamo parlare C'è nostra Almeno Mi sa che questa è una barita Un po' più equilibrata Madonna ragazzi Tripla Ma che cazzo sto a fare qui Ma dico io ragazzi Ma come sto proeggiando Quattro No Quattro di fila Uccisione furiosa Madò Sono pro Cioè ragazzi Ammettiamolo Quella è stata proprio Una proeggiata O sono io O sono gli altri Che sono scarsi O sono io Che sono troppo forte Grazie per aver conquistato L'obiettivo Insieme a me ragazzi Mi sento meglio Quando sono con gli alleati Cioè quello C'ha prima il pompa Adesso c'ha quello Ma che cazzo di classe ha quello Cioè La quadrupla Me la fanno pagare subito Me la fanno pagare subito La quadrupla Come cazzo è morto questo Prendi Baker al volo Prendi Baker al volo Che arrivo io Mi ho ammazzato così Senza motivo Prendete Baker Che stiamo perdendo adesso Non va bene Cazzo il cecchino Cecchino no Cecchino di merda Lavable Lavable Come cazzo Ti chiami tu Manca poco per Baker Dove vai No voglio prendere quello No Perché me l'hai ammazzato Bastardo Perché siete tutti Col cecchino A rompere i coglioni Madonna Non si capisce un cazzo In questo tunnel Centrano non si capisce nulla Vabbè dove volevi Volevi colpirmi eh Volevi Hitmarker Qui c'è qualcuno Perché mi ammazzano sempre Madonna 9-9 E sono il migliore Della mia squadra Quindi vuol dire Che siamo Apparente nella merda Sono il migliore Se uno che ha appena iniziato È il migliore Della sessione Vuol dire che avete Qualche problema E vabbè ciao Ciao Proprio ciaone Ma volete conquistare Quelle fottutissime bandiere Non posso far tutto da solo Vabbè Io ammazzo quelle E mi arriva il cecchino di merda Che si fa una tripla E vabbè Ma hai rotto i coglioni Però eh Bro Mamma mia Che palle Sto cecchino Mamma mia Che due coglioni Spiegami come Spiegami veramente come Si è morti Vabbè qua ho fatto veramente cagare io L'ammetto Ma quanto potete far schifo Addirittura campadonna No dai Vabbè Vabbè ciao Si camperano con il pompa Si camperano con tutto Granate a raffica Madonna E' la mappa più caotica Del mondo Manco Nuketown E' tanto caotica Manco Nuketown Quella quadruple Me l'ha fatta pagare Cariamara Perché in questo non muore E perché Lanciano sti lanciapuffi Del cacchio Vabbè Dovevo beccare il cecchino Prima Il cecchino Dovevo beccare Vabbè stiamo facendo veramente Cagare in questa sessione Madonna mia Non si capisce un Cazzo Sì comunque ragazzi C'è una squadra Che è una merda C'è veramente una merda Oh l'ha ammazzato Quello Quello era il mio obiettivo Lui era L'babble Lui era il mio obiettivo primario Cessare il vuoto Ma do Che culo per entrambi Medaglia di bronzo A me ragazzi Per la quadrupla Sicuro Oh no Sì per la quadrupla Che figa Tante che quadrupla Che mi sono fatto A me non se l'aspettavano proprio Mamma mia ragazzi Comunque hanno fatto veramente Cagare I miei compagni di squadra Occupiamo Charlie Cioè non fanno un cazzo Cioè guardate C'hanno un centimetro Ce l'hai a un centimetro Lo vuoi ammazzare Cioè raga Il tempo di uscire Me lo dai E vabbè Uno di là Uno di là Eh E cazzo è cagà E muori Che c'è qualcuno ancora Ma guarda qua Madonna Che squallido Che squallido Mi butto così A caso Quello mi ha già visto Quello Che si camperò là dietro Madonna Che squallidume Quello tu sei il mio obiettivo Solo te voglio ammazzare Il cecchino bastardo Bombardamento nemico Al riparo Volei vincularmi Bastardo No 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 Quello che si camperò Ancora lì Madonna Ragazzi Ci vogliamo risvegliare Cioè vende Che partita di merda Stiamo facendo 21-29 Io Non sto andando malissimo Cioè Potrei far di più Questo sì Certo Dovrei far Qualcosina in più Questo quanto è messo male Quanto sono messo male io Cioè ragazzi Guardate che partita di merda Che stiamo giocando adesso Anch'io che non vedo le granate Vabbè Hai rotto il cazzo La riusciamo a prendere la bandiera Ragazzi La riusciamo a prendere Una pottuta bandiera Non la prendiamo una cazzo Di bandiera Niente Non ce lo dai Questo bandaggio Niente ragazzi Proprio Non prendiamo un cazzo Qui Vedete che faccio un'altra quadro Che smirata che ho fatto Cioè quello proprio davanti era Non potevo Non potevo missarlo così Non potevo missarlo così Oh madonna Ma da lì escono pure Come i Le deputane Escono Madonna Pure Headshot mi fa Madonna mia Che squadra di merda Che mi è capitata Cioè la precedente partita Era più equilibrata Ma qua adesso Proprio Ci hanno inculato Proprio Tu sei il mio obiettivo Solo tu Prendi sta bandiera Almeno Sono aumentato Almeno di livelli Livello 9 La precedente partita Ho fatto Sono aumentato Di 3 livelli Qua manco Qua uno solo Chi cazzo Sto sparando Che mi ammazza Aspettate che qua Mi nascondo Ah c'avevi paracadutisti Pure Buono Ma non fanno un cazzo Fanno un cazzo Ammazzano il culo Ho ammazzato con la granata Così a scoppio ritardato Una granata a scoppio ritardato Ammazza Ok partita alquanto deficiente Bombardamento a bassa quota In corso Manca poco Partita bruttica Ma quanto puoi essere merda Due ce n'erano Due camperati qua dentro Mi sto colpendo Non so come Ma va bene Assist pure Che sei bastardo Pure loro i paracaduti Paracadutisti Non paracaduti Che cazzo Sono i paracaduti Dov'è E' qua sopra Ma dov'è La sopra dove Allora Già la ma più piccola Ci mettiamo i nemici Ok le ho ammazzato già uno Ne ho ammazzato i due Allora O sono scarsi O sono forte io Vai Che là Ok Ne ho ammazzato un altro No Paracaduti No 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 Cioè mi sono spostato apposta Quello mi ammazzato Via Olè doppia Così senza senso Ho paura Vai carichiamo un attimo Giusto perché siamo Ma come fa a colpirmi pure Da qua dentro Sto figlio di puta Cecchino bastardo Cecchino bastardo Anche se non c'era Comunque Ultima partita della giornata Fatta abbastanza da schifo Come la seconda Però la seconda almeno abbiamo vinto Abbiamo fatto Un ratto abbastanza leggero Via 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 Vabbè va bene va bene va bene Lo stesso dai Raga comunque stanno Non conquistano le bandiere Perché vogliono fare più uccisioni Sono furbi Bastardi Catturano Ma quanto faccio schifo a mirare Star ma poi c'è Che 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 laghi Guarda questo come mi lagga Non lagga C'è che bastardo 79 Ma che cazzo fa Quello Quello è un animale Non è una persona Un animale Catturano Però almeno è un ammazzo Vede l'importanza Cioè è proprio Abbiamo una rivalità Io e lui proprio E' nata una rivalità Io e level C'è abbiamo una rivalità Ho trovato il mio rivale Su quello fiuti Questo si campera qua così Lo so c'è un altro dietro L'ho visto Che è lui ragazzi Io chiamerei l'uav così Giusto almeno Faccio una serie Manca poco per Baker No perché ho lanciato la granata Arriva un mitragliere aereo nemico Pure Ho fatto tripla però dai Almeno Sto andando Sto recuperato qualcosina Vai Io me ne andrei qua dentro Proprio Il nemico Cattura Questo mi ammazza Secondo me Non dovevo uscire Non dovevo proprio uscire Ho sbagliato Alla grande Bastardo Non mi dà neanche il tempo Muori figlio di puttana Tua madre quella troia Ti devi morire male Tu e tutta la tua squadra Perché sclero così E poi sclero così Solo quando posso Ci è fatto una doppia questo Ragazzi Vedete noto che abbiamo recuperato A livello di punti E stiamo vincendo Cioè vi rendete conto? No giusto per dirvelo Questo quanto può essere messo male Questo che mi spawna davanti Mappe così però Da una parte mi incazzo No 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 Questo quanto può essere messo male Dove mi è uscito quello dal culo Dal culo mi escono Però ho recuperato un 44-60 Vabbè Partita di merda Perché questo muore saltando Con i buffi Muori male con le granata No eh Ma perché quando lancio le granate Non colpiscono nessuna Questi colpiscono tutti Perché questo non muore Immortale Highlander Ok Able è il nostro E abbiamo vinto Dai Abbiamo vinto ragazzi GG Perché non muoiono Sono immortali Immortali proprio E vabbè Non è andata male Tecnicamente Le mie 40 passo uccisione Le ho fatte In più sono arrivato a livello 11 Ho sbloccato la granata Quella che mi piaceva Un lancio di fornimenti raro Ragazzi Quindi uscire un attimino E vedere questo lancio Cosa mi porta E poi concludiamo qui la parte Vediamo cosa ci da Quest'altro lancio Ragazzi Un altro epico Dai perfetto Comune E da un legendario È raro Ok Niente male ragazzi Niente male Allora Abbiamo sbloccato la granatina Questa qui che si attacca Quindi devi equipaggiarla E poi vorrei vedere un attimino No Prima di Ecco Facciamo un attimino Facciamo un resoconto Allora c'è Potrei provare il PPSH Magari Come assalto Invece no Perché si sbloccano dal 15 in su Quindi Allora devi fare Una classe così Al volo col PPSH Però di mettere anche Una secondaria Sempre con avia trasportata Col grisgan Con Il reflex L'estrazione E L'impugnatura E così può andare Aspettate Modificiamo un attimo La granata Quindi ragazzoli Per questo secondo episodio È tutto Spero vi sia piaciuto Vi invito a lasciare un bel like Condividere l'episodio Per supportare questa nuova serie Iscrivetevi al canale Se siete ancora iscritti Attivate la campagna Nel modo di ricevere Tutte le notifiche del canale Gli domani Stante gaming Sempre in descrizione Detto questo appuntamento Al prossimo episodio Del Road to Commander Ci vediamo guys Ciao Ciao